Anche le scuole marchigiane tornano a respirare alla luce dell'ultimo decreto Covid emanato ieri dal Consiglio dei Ministri che di fatto rende meno opprimente o perlomeno più sostenibile il carico di didattica a distanza e quarantene. Nuovo decreto che fa sì che nelle scuole per l'infanzia fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza con mascherine FFP2 in aula, mentre dal quinto caso di positività le attività vanno in dad per cinque giorni. A partire dalle scuole elementari invece gli studenti che si sono vaccinati non andranno più in dad che invece scatterà solo per i non vaccinati durante cinque giorni. Naturalmente andranno in quarantena anche i vaccinati che risultano positivi al contagio. La dad sarà annescata dopo cinque casi positivi in classe nella scuola primaria, dopo due nella scuola secondaria. Si rientra a scuola dopo test antigenico negativo al quinto giorno di quarantena. Un provvedimento che dovrebbe entrare in vigore dal 7 febbraio alleggerendo il fardello per scuole famiglie ma anche per le farmacie che scrutano uno stato di gestione anziché uno d'emergenza. Dal punto di vista della prospettiva ci dà l'idea che si possa in tempi ragionevolmente brevi uscire da una situazione di emergenza e passare ad una situazione di gestione di una normale problematica sanitaria come potrebbe diventare il covid rispetto a quello che è stata l'emergenza fino a questo momento. Scuola a parte il nuovo decreto prevede anche la durata illimitata del green pass per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino o per chi si è contagiato dopo due dosi. L'altra novità è che i regolamenti d'eventuale zona rossa resteranno in vigore solo per i non vaccinati.